Buonasera, scusate il ritardo è colpa mia, sono Simone Tarona, giornalista della RAI, sono qua per moderare questo dibattito che è molto ricco di personaggi e quindi scusate ancora ma purtroppo ero incastrata al lavoro e quindi oggi è una giornata di lavoro, speravo di finire prima ma non è sempre così. Allora siamo qui per parlare di questo bello interessante libro Falce Tortello, l'autrice qui a mio fianco è Anna Tonelli, poi abbiamo come nostri ospiti ve li presento Lorenzo Gianotti, poi abbiamo Gioacchino Contrò che è stato segretario provinciale del PD torinese e del tesoriere provinciale attualmente del PD, con debiti e vabbè, poi abbiamo Bruno Pittatore che è un ex dirigente, Palmiro Gonzato e Claudio Ferrentino, giovani democratici del Partito Democratico. Dunque intanto cos'è questo libro? Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo, di leggerlo, è molto interessante perché il titolo è già un invito Falce Tortello ed è una storia attraverso le feste dell'unità e soprattutto una storia sociale di questo paese e una storia del partito e di come il PC si sia trasformato in partito democratico e come questo sia stato vissuto attraverso le feste. Le feste che mi sembra di capire, leggendo il libro, sono in fondo veramente un termometro di quello che è stato ed è un termometro autentico di questa evoluzione del paese, di come ci si è spostati. In particolare, e questa è una cosa che mi ha colpito perché l'ho vissuta come giornalista, il passaggio da festa dell'unità a festa democratica. Mi ricordo che proprio qui a Torino, quando ci fu appunto questo passaggio, ero venuto a fare delle interviste tra questi militanti nuovi che nascevano da queste due anime diverse, che stavano facendo nascere il PD, su come si trovavano a fare questa cosa che fino agli anni prima era per tutti la festa dell'unità, aveva un tipo di situazione e simbologia anche per molti completamente diversa. Mi aveva colpito come poi appunto la forza dei volontari, anche questi nuovi che arrivavano, per alcuni era veramente un'assoluta novità essere qui, poi non era qui, ma essere a questa festa, a questo tipo di festa, incontrare questo tipo di pubblico e arrivava anche un tipo di pubblico completamente nuovo. Quindi veramente era stata la festa, il momento per misurare quanto e come funzionasse questa nuova formazione che era il PD. Anna Tonelli, la prima domanda ovviamente è per l'autrice, ma perché, come è nata insomma quest'idea, è abbastanza curioso, nonostante tutti noi si sia passati militanti o no dalle feste dell'unità, soprattutto per chi è di alcune generazioni, perché nasce l'idea proprio di fare questo percorso? Curioso ma assolutamente necessario. Io sono una storica contemporaneista, cioè mi occupo di storia contemporanea, quindi sostanzialmente del Novecento, e il mio, diciamo, metodo di ricerca è quello di studiare soprattutto la storia politica integrandola sempre di più con la storia sociale, la storia del costume. Perché ritengo che non si possa spiegare l'evoluzione politica attraverso la percezione della politica in coloro che la vivono, quindi del cosiddetto vissuto della politica, perché altrimenti sarebbe semplicemente qualcosa che ha a che fare con le dottrine politiche, con l'elaborazione politica e non si capisce perché una fede politica, di qualunque coloro essa sia, riesca a penetrare, a trasformare anche la vita dei militanti. Quindi, partendo da questo presupposto, ho individuato le feste dell'unità come un osservatorio centrale, e dirò anche perché, per capire come quella fede veniva vissuta e proprio costruita, anche dentro le feste. Da quel momento, dalla scelta appunto di questo ambito, mi sono accorta di questo vuoto, di questa carenza veramente preoccupante dal punto di vista degli studi. Non esisteva uno studio organico sulla storia delle feste dell'unità, nemmeno da parte degli storici diciamo così tradizionali comunisti, che ce ne sono anche molto bravi, che però magari hanno toccato marginalmente le feste dell'unità, ma non hanno mai pensato di costituire una vera e propria storia delle feste dell'unità. E quindi ho unito questi due elementi per appunto organizzare una ricerca sulle feste dell'unità. E qui è arrivato un bel problema, che è abbastanza normale per chi fa ricerca, ma non pensavo di queste proporzioni. Ovvero, per studiare le feste dell'unità, bisogna basarsi naturalmente sui documenti, o sulle testimonianze orali, ma anche questo è un altro dei settori che magari approfondiremo dopo. Quindi cercare i documenti che mi permettessero di raccontare le feste dell'unità. E qui è stato un ostacolo insormontabile, perché moltissimi dei documenti stracopiosi che sono stati prodotti dalle varie federazioni sulle feste dell'unità, o erano mandati al macero, o stavano dove li ho in parte trovati, nei magazzini delle federazioni del PC, e grazie all'intervento di un tesoriere illuminato come Ugo Sposetti, che mi ha aperto i magazzini delle federazioni, sono stati mesi e mesi dentro questi luoghi malsani con gli scarafaggi al buio, e anche questo è un segnale di come la memoria delle feste dell'unità fosse considerata qualcosa di secondo piano, da non considerare. E quindi è stata una ricerca lunga, faticosa, ma per me interessantissima e anche molto divertente, perché attraverso le feste dell'unità si aprono degli scenari veramente decisivi per capire, non tanto e solo la storia del PC, questa è una tesi del mio libro, ma la storia d'Italia, perché alle feste dell'unità, che sono fatte e realizzate quasi esclusivamente da militanti comunisti, ma non solo, ci vanno tutti, ci vanno non solo appunto i militanti del partito, ma ci vanno in tanti per diversi motivi, perché sono un luogo di aggregazione, di socialità, in molti casi luoghi di accesa modernizzazione, questo è un altro delle piste, delle tesi del mio libro, io sono convintissima, avendone studiato i 67 anni di feste, che nella stragrande maggioranza dei casi le feste sono molto più avanti del partito comunista, dove l'elaborazione, la nomenclatura del partito pone degli ostacoli, dei paletti forti su alcuni temi di discussione, le feste si aprono, sono molto più dinamiche, sono molto più aperte e quindi proprio per questo costituiscono un luogo di osservazione, un luogo anche di frequentazione importantissimo da parte dei visitatori, che vanno alle feste sicuramente per riconoscersi in una serie di valori trasmessi dal partito, ma vanno dalle feste per mangiare, per ballare, abbiamo ancora esempi visibili da questo punto di vista, per giocare, per avere appunto quel senso di partecipazione attiva a un ideale politico che si allarga non solo alla dottrina, proprio per questo ho pensato che fossero decisive, fondamentali per capire la storia del paese stesso e quindi non solo la storia di un partito. Grazie. Ecco, questo ci lega a quello che volevo chiedere a Gianotti, Gianotti come storico, come si ritrova in queste tesi del libro e è vero, soprattutto su quest'ultima, che le feste sono veramente il momento in cui, e non solo la festa nazionale, perché qui si parla, ovviamente la festa nazionale è il simbolo di tutto questo, è quella più, come dire, significativa, ma sicuramente le migliaia di piccole feste in giro per tutta Italia, fra l'altro io quest'estate sono in Toscana, a luglio, si chiama ancora festa dell'unità in molti posti, ecco, insomma, per cui non... Questo spirito che è una cosa a metà fra la tradizione, perché poi c'è sempre la tradizione della feste in unità, ma anche un guardare avanti. Lo hai ritrovato e a te, insomma, cosa ha incuriosito in particolare di questo libro? Ma io vorrei prima fare un'osservazione sul libro, tu hai detto che hai avuto difficoltà a ricercare, a trovare le fonti, non ho visto, ho citato, ma magari mi è sfuggito, l'Istituto Gramsci Piemontese, che invece ha una, per esempio, ha un fondo iconografico enorme, ha archivi molto ampi sul... Iconografico non c'è problema, i documenti... E molto ampi di documenti, suppongo, anche sulle feste dell'unità. Ma io ho letto questo libro come un racconto della storia del PC, dei temi che nella politica del Partito Comunista Italiano man mano si sono evoluti. e ho visto anche, diciamo, una narrazione che procede per periodi, per aperture. Inizialmente, tu lo ricordi, la festa dell'unità è una cosa che viene presa dai compagni francesi. Ho letto che il Festival dell'Humanité, nonostante che il PCF sia diventato una cosa piccolissima, continua anche adesso, il 14 e il 15 settembre, alla Courneuve, mi pare, nella periferia parigina. E poi man mano si sviluppa e si amplia tanto come tematiche quanto come adesioni. Appunto tu dici, non ci sono soltanto gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Comunista Italiano. Man mano la cosa si amplia a settori della società via via più ampi, più larghi. Se io dovessi fare un elenco degli obiettivi che man mano si affidano alle feste dell'unità, farei questo elenco. Primo, è un luogo di apertura politica, appunto, a altri ceti, a ambienti non comunisti. Secondo, è un luogo nel quale si rafforza il legame con gli intellettuali. Nelle feste dell'unità, per le feste dell'unità vengono reclutate, diciamo così, per dibattiti, per confronti, eccetera, una quantità di intellettuali davvero grandissima. In terzo luogo è il luogo nel quale si materializzano le relazioni internazionali del partito. Nei primi anni sono soprattutto i rappresentanti dei partiti comunisti dell'est Europa. Ma man mano arrivano i socialdemocratici tedeschi, i socialisti francesi, poi arrivano i vietnamiti, che sono comunisti, ma nel periodo della guerra del Vietnam erano l'immagine di un mondo nuovo che resisteva all'imperialismo. E infine è un luogo nel quale si cerca di presentare, man mano che passa il tempo, il partito comunista non come forza minacciosa, ci porta via le bestie, pensavano i contadini, ma come forza di governo. Io mi ricordo, ma qui sono in molti a ricordare, dato che l'età media non è particolarmente bassa, mi ricordo, tu lo citi, la festa nazionale dell'unità dell'81 fatta a Torino. L'anno prima, settembre-ottobre 1980, c'era stata la lotta alla Fiat che si era conclusa con la marcia dei 40.000, cioè un disastro, un disastro per il sindacato e per il partito comunista, tant'è che ci interrogavamo, ma torna la Fiat di Valletta, torniamo alle discriminazioni, torniamo agli anni bui, agli anni 50. Ebbene, noi pensammo che la festa nazionale dell'unità fatta l'anno dopo potesse essere una risposta in che senso? Nel senso che la città da quello sciopero era stata spaccata profondamente, chi era per lo sciopero e chi contro, anche coincidenti, e poi quel corteo dei 50.000 era un corteo di massa, ed era la prima volta che, non per ragioni come a Milano, ragioni generali, ma per ragioni specifiche, 40.000 persone scendevano in piazza contro il sindacato e i comunisti. Ebbene, devo dire che troviamo anche resistenze, ma noi abbiamo tante altre cose da fare, facemmo un'operazione straordinaria e, tu lo citi, una delle cose significative di quella festa fu la mostra della scienza e della tecnologia, nella quale presentammo robot, macchine a controllo numerico, eccetera, che ci furono date dagli industriali, cioè da quelli contro cui, meno di un anno prima, facevamo le manifestazioni e fu una manifestazione di apertura notevole. Se mi permetti vorrei ancora fare un'osservazione sulle feste dell'unità. Io credo che la festa dell'unità è stata una delle rappresentazioni del carattere popolare del partito. Un partito che, certo, era legato a certi stilemi, a certe ideologie, e tuttavia aveva una capacità di relazionarsi con la gente, con i cittadini, davvero straordinaria e le feste dell'unità sono state una delle maggiori rappresentazioni di questa qualità. Io non penso che un partito possa essere soltanto una macchina che fa politica, nel senso che pensa di gestire, di occupare le istituzioni. Io penso che un partito, facendo politica, ha bisogno di avere questa dimensione popolare. In fondo l'antipolitica è creata da questo distacco tra chi della politica si occupa professionalmente e la grande massa dei cittadini, per cui viva la festa dell'unità. Grazie. Ecco, a proposito di questo, anche a me ha colpito questo evolversi, pur non avendo vissuto quella stagione, ma proprio attraverso anche la festa dell'unità, il far capire, appunto, dopo poi gli anni, negli anni del dopoguerra, che i comunisti non erano appunto i cosacchi, ma erano il vicino di casa, che era lì perché ti faceva la costoletta. Cioè, questo veramente rendere più vicino alla gente e portare un dibattito in un luogo popolare, veramente creando davvero un po' l'altra chiesa, perché poi l'abitudine degli italiani è poi di trovarsi a parlare il sagrato della chiesa dopo la messa domenicale. Quindi questa alternativa, effettivamente, che fa nascere un'Italia, a cui nasce comunque, e che contribuisce, diciamo, a far nascere, a far continuare un'Italia diversa, prima ovviamente che il salotto televisivo dilagasse e creasse degli altri tipi di modelli. Ma parlando anche della festa nazionale Torino del 1980, Bruno Pittatori, lei era un dirigente della FIGC, ma lei c'era a questa festa dell'80? No, era già grande o vecchio? Allora, io ho girato diverse librerie per trovare il libro, che non lo trovavo, con un amico di sempre, che tra l'altro è anche editore. Abbiamo trovati due, l'abbiamo comprato, poi ci siamo trovati dopo sette, otto giorni, e lui mi dice, ma sai Bruno, questo libro andrebbe nelle scuole. Io gli ho detto, allora anche a te ti ha ingannato il titolo, perché i tortei... Sì, certo, titolo giornalistico. Perché attraverso lì questo libro si arriva a una mappa completa dell'Italia attraverso tre, quattro regioni, che poi è la storia lì del Festival dell'Unità. Già bisogna parlare molto vicino. Allora, si arriva a una mappa, direi molto, molto ben fatta, del partito, del paese, del modo con cui si trova a cimentarsi il paese con il partito, con i problemi sociali e economici da allora. E dopo è fatto, e questo è molto importante, come diceva l'autrice, sono d'accordo, in modo completo, perché in modo spezzettato delle storie dei festival, ce n'è a Ioso in tutta l'Italia. Ovunque andavi anni fa, i festival dell'Unità, trovavi, non lo so, trovavi il festival di Comacchio, trovavi il festival di Bologna, da solo trovavi il festival di Ferrara, e questo è in modo completo. Comunque, detto questo, quindi molti complimenti per questo. l'autore poi tratta, in un modo, direi, accenna, accenna, neanche tratta, il rapporto tra i giovani e il partito all'interno del festival dell'Unità. E questo è stato un problema, che abbiamo dibattuto parecchie volte, insomma, e poi siamo arrivati, specie quando si trattava di festival provinciale, importanti, alla costruzione di villaggi della gioventù all'interno del festival. I giovani comunisti di allora partecipavano alla costruzione, e siamo riusciti a far lavorare gli studenti universitari del nostro gruppo, e poi alla fine, siccome si facevano, si montava gli stand in legno, avevano tutte le mani da pronto soccorso, no? Allora c'erano i compagni operai, dicevano, guarda che il martello non è una piuma, è una cosa, insomma, mi ricordo di questi episodi di vita eterna. Non erano altro che un festival della Gioventù, non era altro che una riproduzione di quello che si facevano i grandi, insomma, mostre, facevano mostre, poi facevano serate della Gioventù, dove si proiettava delle filmine, poi si faceva ballo, e questo, e poi sono apparsi i biliardini, sono apparsi le gare di biliardini, che tanti problemi ci dettero poi dopo all'interno della FGC col partito, perché dopo quando nasce la FGC c'era un'opinione politica forte che ci discutevamo sempre, FGC dei biliardini o FGC di lotta. Ecco, e questa è stata una cosa che ha provocato anche molte lacerazioni che non sono, nessuno ne ha ancora parlato, probabilmente i testimoni non ne parlano, lacerazioni nei gruppi dirigenti della federazione. Dopo la guerra, Gianotti dice erano feste, erano feste. Io mi ricordo dopo la guerra c'era una gran voglia di divertirsi tra i giovani, ma divertirsi veramente. Lì non c'era il sogno dell'avvenire, lì si toccava l'avvenire, si viveva l'avvenire, di ballare, ovunque, i balli che facevamo erano strapieni insomma, di queste cose. Ricordo poi, lavoravo alla Fiat io allora, ricordo poi che ci siamo riuniti nel gruppo operaio dei giovani e parteciparono a quella riunione Calvino, Pavese, Spriano, che ricordo è Ponte Corvo, quello della battaglia di Algeri, perché aveva partecipato alla lotta di liberazione a Torino Ponte Corvo. Li conò prima come uomini prima ancora che come scrittori insomma. Nel paese questi giovani comunisti allora dopo la guerra erano rappresentati dal fronte della gioventù. il fronte della gioventù era un'organizzazione che era stata creata da Eugenio Curiel che è stato un martire della lotta di liberazione. Si creavano campeggi dopo la guerra, biblioteche, scuola di pugilato che avevamo occupato l'ex casa littorio forse Cerossi lo ricorda bene di via Guastalla scuola di pugilato e poi oltre ai campeggi che noi facevamo c'erano anche altre cose molte discussioni molte molte cose i campeggi occupavamo mare e monti io sono andato personalmente a uno per vedere come ci trovavamo perché economicamente erano un disastro erano un disastro fatti da operai che non avevamo mai visto campeggi mai andati sono andato a Cogoletto in Riviera provincia di Genova questo campeggio ero con l'ex presidente della regione ancora vivo molti compagni conoscono Dino San Lorenzo questo campeggio era formato da tendoni che avevano recuperato i giovani di Genova dall'esercito americano rottamati allora l'hanno messi lì anche le cucine erano tutte rottamate ma siamo arrivati non so quanti centinaia cinquecento eccetera quasi senza soldi pensavamo di mangiare così non so arriva l'estate noi non pensavamo che potesse andare a piovere al mare però è stata un'estate piovosa molto piovosa allora pioveva dentro le tende pioveva il punto dove pioveva era vicino al palo delle tende allora di notte li passevamo dritti non potevamo dormire lì sicché c'è stato un fuggi e fuggi allora i più poveri come me che inseguivano sempre la sete e la fame vivevo da solo a Torino allora andavano alla cassa e i buoni pasto quelli che andavano via li svendevano poi mi vedevano le condizioni che ci vedevano noi di Torino allora ce le regalavamo e noi vivevamo lì tra la pioggia e il sogno insomma questi erano i campeggi però è nato qualcuno che propose di andare all'estero perché disse i campeggi vanno male in Italia mentre all'estero vanno bene allora il compagno Negarville che era allora se mi ricordo bene Diego forse lo sa meglio di me era sottosegretario agli esteri è stato allora inventò ci cercò di inventare un passaporto collegiale noi indicamo il paese il paese indicato era l'Austria ci trovò un passaporto di massa e allora costò meno portammo mille giovani in Austria ma anche lì il risultato economico non fu molto molto piacevole il risultato è che molti giovani di Torino hanno portato qualche ragazza austriaca qui a Torino che io ho incontrato diverse volte anche con loro che erano tutti la cosa più eclatante che è raccontata in un bel libro autobiografia del fronte della gioventù torinese che è molto forse bisognerebbe riprenderla è la partecipazione al giro d'Italia al primo giro d'Italia del dopoguerra dei giovani comunisti e lì si trattava di partecipare contro Coppi Bartali e Magnicher è una cosa che è diventata popolare poi questa cosa e mancava una macchina sono andati questo me lo ricordo sono andati all'unità a farsi dare una macchina e lì l'amministratore dice c'è solo una macchina rossa ben venga la macchina rossa presero la macchina rossa dice te la portiamo stasera poi gliel'hanno portata un mese dopo insomma quella macchina rossa è diventata un veicolo di propaganda in tutti i paesi dove attraversavano perché era la macchina dell'unità era la macchina di queste cose detto questo noi dopo il periodo del del fronte della gioventù venne la FIGC e ci cimentammo poi ho finito ci cimentammo in un festival nazionale la nostra presenza il festival nazionale era al Michelotti del 52 al Michelotti del 52 era il primo festival che si festeggia che si celebrava in una guerra fredda è nata la guerra fredda allora mi pare che e questa guerra fredda tentava tentava di vietare i festival dell'unità cosa che mi pare che la compagna l'accennasse era riuscito a Firenze mi pare nel 54 era riuscito a Firenze lì facciamo il villaggio della gioventù doveva venire togliati al mattino quasi dopo aver finito la costruzione mi convoca al partito e mi dice senti pittatore devi andare in commissariato a fare cosa qui c'è firma firma questo lo porti e poi vieni via io dico ma cos'è è l'autorizzazione a fare il festival dell'unità col comizio di togliati e io non si discuteva allora firmai presi e lo portai in questura d'oltrepo lì c'era la questura a oltrepo e portai quello lì il commissario che ci conosceva perché nell'attacchinaggio tutte le sere nei 52 53 avevamo dei giovani arrestati che li arrestavano eccetera mi disse pittatore lo sai cosa vai incontro io dico non vado incontro niente ma non dovete farlo questo festival io ho detto commissario questo lo decide il partito non lei se dobbiamo fare un festival o non dobbiamo farlo allora il festival si fa parla togliati io mi ricordo solo che mi ha impressionato e qui c'è Palmiro che ricorderà meglio l'imponente presenza del servizio d'ordine del pc in quella perché c'era la paura delle provocazioni per quel giorno lì li hanno reclutati forse da tutta Italia per 50 metri la gente entrava in mezzo a due ale di ex partigiani che li si facevano conoscere eccetera e tutto il successo fu immenso immenso migliaia e migliaia di persone parlarono Togliatti ricordò i suoi giorni con Gramsci al Michelotti al circolo dei Macellai che parlavano del mondo dell'Italia eccetera altra cosa che mi impressionò sono la scalinata della Gran Madre qui quelli compagni la ricordano alla domenica era piena di ragazzi coi falazzoletti rossi che mangiavano il prazzo al sacco davanti alla Gran Madre festival dell'unità eccetera per questa cosa va bene comunque non mi dilungo perché ho già rubato troppo tempo ma voglio non è stato trattato nel libro un problema dell'immigrazione interna dei compagni che andavano aiutare gli altri compagni più le zone bianche per esempio le zone bianche erano quelle dove c'era la DC non c'era la PC partivano durante le ferie e queste si parla di tutto volontario io ho conosciuto personalmente tre compagni molti di voi li hanno conosciuti tutti uno ancora vivo Alfredo Schiavi Meschieri e Moretti gli altri due sono morti Schiavi era originario dell'oltre Poparese di Verzee 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 era un paese dove dominava la DC di 5.000 abitanti un giorno è andato lì ha visto un chiosco con l'unità appesa e faceva dei panini e una dentro che gli ha detto voglio fare la festa dell'unità qui nessuno mi aiuta perché se aiuti a fare la festa dell'unità poi vai incontro a cose che sgradevoli dice stai tranquilla provvedo io dal prossimo anno non sarai più sola il prossimo anno partivano con una 600 i portapacchi sopra Schiavi era un bravo cartellonista allora faceva i cartelloni e poi sopra le trombe mettevano le trombe degli autoparlanti che poi giravano nei paesi con il loro slogan eccetera la sostanza è questa primo anno due o tre anni fecero dei festival streaming city poi divennero dei festival medi e poi un festival grande perché sono continuati anni a fare questa cosa si fermavano anche venti giorni tutte le ferie tutto volontario avevano racimolato avevano nel paese portato portato venti compagni a costruire gli stand allora era venuto Paietta Claudio Villa con i soldi del festival questo l'abbiamo detto lo dicevamo anche allora durante le riunioni hanno comprato la sede del pc e in più un camper attrezzato per la cucina insomma cosa che il lato economico dei festival andrebbe bisognerebbe soffermarsi l'ultima è la Svizzera partivano due pullman tutti gli anni dalla quinta sezione gli anni 68 69 e 70 e andavano in Svizzera a Ginevra a lavorare per il festival il PC il partito comunista era stato messo al bando non poteva esistere allora andavano aiutare il partito del lavoro e una volta le accompagnò Paietta parlò anche per tanti anni fecero quello però il problema la considerazione principale umana se volete fare era che la festa l'avevamo dentro noi allora io noto questo da vecchio però bisogna che i compagni giovani mi sopportano perché con la lunghezza dell'età insomma faccio anche questo nonostante le tribolazioni che c'era si aveva voglia di ridere di parlare Nettuno era pessimista era tutti ottimisti eccetera adesso parli con un compagno parli leggi senti la televisione poi vai a letto alla sera e dici ma chissà se arrivo domani mattina buon figlio grazie prima di dare la parola agli altri intervenuti volevo chiedere ancora qualcosa all'autrice appunto come si ritrova in queste considerazioni immagino poi non ci sono solo queste di questa giornata ma insomma alle presentazioni del libro di fronte appunto alle considerazioni che fanno le persone che hanno poi vissuto questi momenti e le hanno rivissute in qualche modo nel libro e l'altra cosa che volevo dire è c'è comunque molti capitoli una grossa parte del libro che parla dell'organizzazione della presenza alla forza dei volontari e dell'appunto rapporto costo e guadagno insomma il bilancio poi finale delle feste anche da un punto di vista economico che poi per molti anni come ci ha detto giustamente ci ha fatto proprio capire in modo concreto che si trovavano poi i soldi per fare determinate cose importanti e questo ci fa anche pensare come siano cambiate le cose da quegli anni ad oggi ecco queste valutazioni che arrivano come come le vive l'autore di questo libro e cosa ci ritrova ma intanto per me è sempre un grandissimo piacere girare per le feste perché poi ogni testimonianza per chi appunto fa ricerca come me è una fonte storica tanto che non so se mi accingerò ancora a sviluppare il proseguimento di questa ricerca quello che manca davvero nel mio libro e mancano tante cose perché è ovvio che in un libro di ricostruzione non si può mettere tutto anche di quello che ho recuperato dal punto di vista dei materiali però quello che manca davvero è la testimonianza diretta orale dei volontari io ho scritto che appunto i protagonisti veri della festa sono coloro anche coloro che la costruiscono perché il loro lavoro è una sorta di servizio ha un ideale ha un senso di comunità che è una comunità politica ma è una comunità ancora più larga di una comunità politica dove ci si ritrova si scherza ci si diverte si suda si fa fatica appunto diceva prima ci si fa pure male nel costruire le feste e quindi è una sorta proprio di partecipazione attiva che segna un modo di vivere la politica vera autentica ed è probabilmente il punto sul quale comunque dovranno partire i dirigenti e gli organizzatori attuali per capire come vorranno trasformare le feste e se vorranno continuare una tradizione che per ovvi motivi deve adeguarsi alla modernità alla contemporaneità quindi bisognerà inventare un modello di feste che non rinneghi il passato ma che guardi avanti inevitabilmente anche per il coinvolgimento poi sentiremo i giovani direttamente il coinvolgimento delle giovani generazioni e quindi in ogni incontro che ho fatto per tutta Italia devo dire anche nei luoghi difficili come dicevi tu prima nei luoghi in cui le feste sono piccole soprattutto al nord dove il predominio della democrazia cristiana ha lasciato posto in quelli che sono ancora paesi leghisti mi è capitato di andare in Liguria dove appunto in piccoli paesi governati o da Forza Italia o dalla Lega hanno costituito questo avamposto delle feste democratiche come un luogo di resistenza vera e di politica e mi sono divertita moltissimo tra l'altro con partecipazione straordinaria di persone quindi sono tutti ottimi segni io ho scritto questo libro non da militante e non da volontario alle feste dell'unità io ho frequentato sempre moltissimo le feste dell'unità ma non ci ho mai lavorato e così come non sono mai stata iscritta né al PC né al Partito Democratico ma credo che questo sia un valore aggiunto per questa ricerca perché è una ricerca fatta scientificamente dando dando l'importanza che si meritano le feste dell'unità poi è ovvio che sono legata all'ambiente della sinistra ma non è una tessera in tasca che segna la voglia di partecipare politicamente quindi ogni incontro è per me davvero fonte di grande interesse di grande anche scambio e anche tutte queste testimonianze che abbiamo avuto fino adesso sono utilissime ricche per appunto andare a approfondire il mio lavoro che lo sperimento sul campo insomma e per quanto riguarda il problema del finanziamento del appunto così do anche poi direttamente l'assist al tesoriere le feste nascono per tanti motivi si parlava appunto del primissimi anni del dopoguerra in cui è stravero quello che dicevi prima la festa al di là dell'imitazione della festa dell'umanità francese segna proprio la necessità della gioia del divertimento della voglia di liberarsi con appunto ballando giocando trovandosi insieme bevendo mangiando dopo i vent'anni di dittatura quindi un senso di liberazione espresso appunto anche con la festività e la giocosità ho trovato una testimonianza divertentissima ma significativa di un piccolo paese vicino a Bologna Castenaso in cui appunto nelle primissime feste 47 48 si dice anche con il classico banditore che annuncia quello che si svolge durante la festa guardate adesso c'è non si parla ancora di comizio ma parlerà il compagno tal dei tali che era il dirigente di turno ma non vi preoccupate perché parla solo 10 minuti poi si continuerà a ballare e a giocare come prima per dare proprio il segno di quanto ancora la componente chiamiamola ludica fosse centrale in questi primi anni cambia tutto nel 48 il 48 come sappiamo è un anno cruciale per l'Italia e anche per il PC perde le elezioni il PC a fronte appunto di questa vittoria della democrazia cristiana che segnerà la leadership per gli anni a venire ma anche l'anno dell'attentato a Togliatti e quindi con il pericolo di una possibile guerra civile di una rivoluzione alla notizia dell'attentato a Togliatti escono tutti dalle fabbriche c'è una possibilità un rischio vero di sommossa popolare e Togliatti non a caso va alla festa dell'unità a Roma al Foro Italico nel 48 e calma gli animi dice guardate questa è una folla straordinaria e dobbiamo far vedere di essere un partito non della rivoluzione ma per il cambiamento del paese e da qui dobbiamo partire da quel momento in avanti da quel comizio oceanico che dura quasi due ore con le cronache bellissime tu prima hai citato Calvino Calvino e Rodari fanno i cronisti delle cronache delle feste dell'unità sono pagine di letteratura veramente molto molto significative dicevo da quell'anno dal 48 in avanti la componente politica anche nelle feste dell'unità continua ad avere a ricoprire sempre più spazio perché il partito comunista deve cominciare la lotta appunto contro la democrazia cristiana contro il clima da guerra fredda contro gli americani che erano stati i primi liberatori poi erano diventati i sovvezionatori del partito nemico e quindi dal 48 in avanti si comincia a fare politica vera anche nelle feste dell'unità pur mantenendo sempre l'altro apparato diciamo più di tipo ludico però appunto il finanziamento dicevamo no le feste servono per raccogliere i soldi per il partito per il giornale ma anche per il partito sposetti che prima ho nominato mi ha raccontato che con i soldi delle feste dell'unità si sono costruite le federazioni le case del popolo si sono pagati i funzionari quindi dovevano servire anche soprattutto per far quadrare i conti tanto che nel corso degli anni diventano sempre più grandi sempre più imponenti sempre più appunto delle cittadelle che quasi finiscono in alcuni casi soprattutto negli anni 70 per snaturare quel modello originario perché poi cambia anche la formula si cominciano i grandi spettacoli i grandi concerti a pagamento altro grande motivo di discussione dentro l'organizzazione delle feste e quindi più sono grandi più devono far soldi ma più è difficile anche far quadrare i conti perché poi appunto quando durano feste tre settimane arrivano a 25 giorni poi le condizioni atmosferiche sappiamo benissimo che ci sono tre giorni di pioggia gli incassi della festa vengono a mancare quindi da questo punto di vista cominciano a essere problemi e quindi per la questione di far quadrare i conti anche nelle feste dell'unità è determinante io ho trovato tra le tantissime appunto cose stracuriose delle feste i quadernetti che tutti gli stand dal primo all'ultimo dalla lotteria allo stand del tortello tenevano rigorosamente gli incassi giorno per giorno e li confrontavano con l'anno precedente quando guadagnavano poco subivano delle reprimende durissime da parte dei dirigenti mentre quelli che guadagnavano avevano non solo l'orgoglio di dire è la federazione che funziona meglio perché ha fatto guadagnare ma addirittura nei primi anni erano messi in palio dei premi per quelle feste che funzionavano meglio erano dei premi che adesso a noi fanno sorridere parte la bibliotechina marxista il busto di Stalin oppure il comizio del dirigente di turno Longo era tra quelli messi in palio insomma però anche questo era un modo per dimostrare come occorresse assolutamente mettere tutto l'impegno possibile per far riuscire bene le feste per il successo delle feste e proprio a questo proposito appunto diamo all'astist a contro che fra l'altro tu eri segretario provinciale quando c'è stata qui a Torino la festa nazionale del PD facevi reprimende complimenti cosa hai messo in palio fra i volontari che busto ti hanno dato no io spero nessuno no nessuno ma io prima di rispondere all'assist volevo fare alcune considerazioni che siccome io qua sul palco neanche Sorrentino io non provengo dal pc quindi ho letto il libro e ho vissuto le feste dell'unità da visitatore da spettatore in alcuni momenti anche da oratore dai dibattiti proveniendo dal PSI dall'area lombardiana quindi ho vissuto le feste dell'unità e questa evoluzione come dire non direttamente come molti di coloro che intervenendo sul palco hanno raccontato la storia io come dire parto cioè c'è stata un'evoluzione e ha un significato profondo perché la stessa autrice nel libro racconta fa questo percorso la festa dell'unità che nasce come una scampagnata una festa nata spontaneamente non organizzata non diretta non verticistica come tu in alcuni punti del libro come dire chiami la festa dell'unità come organizzata in modo verticistico tant'è vero che fai emergere anche le contraddizioni quindi questa spontaneità dà significato e forza all'evoluzione della festa dell'unità che non è nata come una festa politica ma è nata come una festa a sostegno del giornale tant'è vero che inizialmente tu nel libro richiami il fatto che la festa c'è stata una discussione se doveva essere dell'unità o dell'unità fra virgolettato come invitiamo al giornale perché dico questo per poi rispondere all'assist e voglio fare questo percorso brevemente perché partendo da questo presupposto emerge che cosa che tutto ciò che è stato detto il fatto che i volontari sono stati e sono l'elemento fondante e funzionante delle feste perché il volontario a mio parere ha vissuto sin da quel momento nel momento in cui l'evoluzione della festa ha preso un percorso diverso ha vissuto la partecipazione il fatto di essere uno degli elementi che riusciva a realizzare la festa e quindi a dare un messaggio all'esterno anche politico ma non solo un messaggio politico ma anche ludico come sintetizzo nel ludico lo viveva come un fatto di e un senso di appartenenza a uno scopo a un significato politico a un progetto politico a un messaggio politico a un arrivare di una battaglia politica che veniva manifestata con l'appartenenza al partito comunista e tant'è vero che le discussioni già all'inizio tu nello stesso libro dici emerge già dall'inizio e dai significato lo voglio richiamare questo c'è un partito la festa dell'unità è nata e già nel momento nei primi già nei primi anni prima del 48 nella stessa festa emergevano alcune contraddizioni tu l'hai definito un partito maschilista e che allontanava i giovani e non faceva partecipare i giovani così come poi pittatore Bruno ci ha raccontato fino a quando non è nata la festa dell'unità dei giovani dei giovani comunisti per cui anche lì l'evoluzione della partecipazione delle donne dei giovani nella festa ha avuto un suo percorso al di là del momento festaiolo il calcio il calcio balilla il biliardo la corsa la corsa al sacco la lotteria che veniva definita in modo diverso allora un'altra la la mistellina tu hai chiamato la mistellina no? anche lì il significato veniva chiamata la mistellina già lì emergeva come dire il fatto che il partito comunista in quelle situazioni mandava all'esterno un messaggio di diversità diceva da noi la mistellina viene premiata si veste e viene premiata con la macchina da cucire tu dici nelle gare di Miss che nel paese già emergevano si spogliano cioè già quello perché evidentemente i dirigenti come dire c'era quella discussione interna se il mistellino doveva esserci o meno perché veniva letta come una cosa che li legava o li portava agli Stati Uniti d'America ai famosi ecco io ho fatto ho voluto dire queste cose perché dentro questa storia emerge anche un percorso politico di contraddizione di significato subito dopo il 48 tu dicevi la festa nazionale fatta al fuoritalico a Roma poteva annoiare il rischio era che poteva annoiare la gente perché la festa doveva essere vissuta come un momento di gioia di felicità di socialità e di appartenenza per cui inizialmente i dirigenti non venivano neanche invitati Longo porta il saluto perché il messaggio era parla 5 minuti vi saluta e poi riprendete a giocare a mangiare e fare quello che volete il momento in cui lo spartiacque è stato nel 48 con Togliatti che partecipa c'è questa attesa del ritorno di Togliatti che fa questo comizio di tranquillizzazione rispetto a ciò che era successo da quel momento in poi c'è stata questa transformazione e i contenuti sono cominciati a diventare anche politici con dibattiti e con ciò che diceva prima Renzo la partecipazione anche internazionale degli ospiti stranieri c'è stata un'evoluzione ed un passaggio tutto ciò fino a un certo punto secondo me è torno all'assist perché sennò poi rischio di farla lunga cosa è successo che si è partiti da una festa nata spontaneamente che non aveva un significato di raccolta di soldi se non quella di aiutare qualcuno la prima festa poi si è passata a dare una finalità anche di raccogliere contributi per il giornale e poi per il partito e questo c'è stato ci sono stati dei risultati tu nello stesso libro parli nei primi anni 160 milioni sono stati raccolti in quegli anni lì 160 milioni avevano significato per una festa nazionale beh io penso che c'è stato un percorso fino a un certo punto in cui le feste hanno in qualche modo sono riusciti a realizzare un risultato economico c'è un momento in cui invece queste feste non riescono più a realizzare un risultato economico tu dicevi prima più grandi sono le feste e meno e più il rischio di non realizzare c'è ed è così ed è così quindi oggi le feste la nostra festa oggi noi abbiamo vissuto la festa nazionale a Torino che c'è c'è stata catapultata improvvisamente e quindi la macchina organizzativa è stata metterla in moto è stata molto più faticosa perché noi abbiamo saputo un mese e mezzo prima due mesi prima ci hanno detto siccome non si fa a Bari Milano ha rifiutato Bari non è possibile tocca a Torino quindi aggiustatevi aggiustatevi nel senso noi abbiamo ci siamo presi quest'onere questa responsabilità abbiamo detto bene ci proviamo e ce la faremo ed è stata una sfida non di poco conto anche perché quella festa aveva un significato politico e un messaggio che noi volevamo dare al paese forte perché cadeva nel centocinquantesimo anniversario il contenuto della festa ruotava tutto attorno a quella scadenza per cui abbiamo messo in piedi una festa che anche qui ha segnato e Paganelli lo riconosce perché tu l'hai intervistato un altro cambiamento per la prima volta una festa nazionale di un partito si faceva nel centro della città cioè nel cuore della città noi abbiamo fatto questa scelta dopo lunga discussione non è stata facile con gli organismi nazionali però devo dire che quella discussione non è avvenuta come ci raccontava Bruno dice Paietta ci ha detto facciamo così era un ordine io eseguo noi abbiamo discusso devo dire che c'è stata una discussione lo stesso segretario nazionale alla fine che era poco convinto di farla in centro Bersani non era più convinto di farla in quest'area tanto per per capirci poi alla fine si è convinto e questa scelta ci ha dato ragione perché quella festa è stata una festa in cui è emerso come dire in modo molto chiaro ed evidente la capacità del gruppo dirigente di mettere insieme dei volontari che avevano una rivenienza politica diversa con la loro storia con la loro passione ma in quell'occasione circa 800 volontari hanno dimostrato che al di là delle diversità delle loro rivenienze politiche di appartenenza hanno dato un contributo notevole per la realizzazione della festa ma non solo in quell'occasione è stata una delle anche qui è stata vissuta come come non solo la festa dei volontari degli iscritti e degli aderenti al partito ma i numeri che abbiamo vissuto di partecipanti giorno dopo giorno che sono stati notevoli cioè hanno fatto capire che cosa che anche coloro che come dire magari non votavano il partito democratico o non non pensavano hanno partecipato a quella festa sia dal punto di vista ludico perché venivano offerte tante opportunità le ristorazioni non erano più solo italiane anche internazionali ma anche dal punto di vista dei dibattiti perché noi abbiamo vissuto 15 giorni di dibattiti stracolmi ogni dibattito era stracolmo piazza castello che aveva con l'innumero con anche situazioni di tensione non di poco conto se voi ricordate il tiro del fumogeno a a Bonanni l'attacco al presidente del senato Stefani quindi ha ragione Paganelli e finisco ho risposto ho cercato di rispondere io spero speriamo noi che questa festa che è piccola abbiamo dovuto fare questa scelta oggi ma questa scelta ha un doppio significato della festa organizzata in questa realtà in questo sito ha un significato di messaggio che in un momento in cui si sta discutendo di una situazione economica di ristrettezza forse era meglio e abbiamo fatto bene evitare che si facesse una festa che sembrava no? come dire di una situazione abbiamo fatto una festa piccola bella con dei contenuti politici con anche momenti ludici e gastronomici non sicuramente della dimensione di altri anni ma sicuramente io sono convinto che questa festa darà quest'anno a differenza degli altri anni dei risultati positivi ci metterà magari qualche soldino che permetterà al tesoriere pro tempore perché ho assunto questo onoroso incarico mi è stato chiesto per poter pagare piano piano i debiti che abbiamo finisco dicendo chiudo la parentesi sulla questione tesoriere visto che mi avete dato l'assist dicendo che Paganelli ha ragione dicendo che i quattro anni di festa nazionale del partito democratico devono dimostrare che nonostante come dire la storia bella significativa importante che ha fatto anche la storia del paese delle feste dell'unità e del partito comunista noi dobbiamo dimostrare che anche le feste del partito democratico sono capaci come dire di dare al paese quei messaggi per cui le feste dell'unità le hanno dati per anni questo è possibile a mio parere e ho terminato lavorando su un obiettivo che è quello di riuscire a far modo che le feste del partito democratico e il partito democratico crescano sempre più per un insieme di persone di donne uomini e giovani che sentano il senso di appartenenza al partito che non si si cada sempre più nelle individualità e che una volta per tutte io lo dico fatemi passare questa battuta perché quando ci incontriamo fra noi diciamo beh che si dice al partito cosa dicono al partito io vorrei magari anche attraverso la festa che una volta ci dicessimo una volta per sempre cosa dice il partito che ha un significato come voi capirete diverso grazie si sente adesso contro definitivo come intervento prima di passare la parola al futuro ai giovani e a come saranno le feste abbiamo ancora un intervento di un pezzo del passato ma soprattutto come questo passato si confronta con questo presente da chi di queste feste ne ha fatte tante come appunto Palmiro Gonzato intanto buonasera a tutti io volevo dire alcune cose non ne dirò tante perché io il libro non l'ho letto però ho capito benissimo che cosa voleva dire si impernia soprattutto sulle feste dell'unità e su anche altre cose però io credo che questa sia la parte principale perché sulle feste dell'unità ci sarebbe una lunga storia per quelli che l'hanno vissuta e io dico che è una storia che va presa per quello che era secondo me quelli che lavoravano alla festa lavoravano con molto entusiasmo anche perché c'era una fede ci si credeva in qualcosa che si riteneva che fosse il futuro di chi viveva allora io voglio parlare di un gruppo particolare che ha dato la sua disponibilità totale volontaria che è sempre lavorato diciamo all'oscuro riservato chiamiamo così tanto era che in lingua ufficiale si chiamava loro riservato era quel gruppo di compagni che dovevano dare sicurezza nel loro possibilità sicurezza alle feste a chi frequentava le feste ai suoi dirigenti a quelli che provenivano anche dall'esterno perché soprattutto quei compagni che venivano dai paesi allora si chiamavano i paesi socialisti in cui c'è stato un periodo dove ogni anno si faceva la festa si invitava a un paese straniero che voleva dire io parlo anche dell'Abissina perché mi ricordo dell'Abissina in particolare loro ci avevano portato una meride di quintali di datteri tanto è vero che alla fine non siamo riusciti a farli fuori tutti e abbiamo dovuto scegliere un'altra strada questa è una cosa dobbiamo tenere presente che su questo tipo di attività c'erano dei compagni che in quel periodo non solo quelli che facevano questo lavoro riservato prendevano dei giorni di ferie perché se non ci fosse stato questi giorni di ferie veniva difficile a costruire il festival per tutte le sue parti ce ne sono infinite voglio dire di quelli che partecipavano ma io vorrei parlare di questo gruppo prima ho sentito parlare mi sembra già notti abbiamo parlato del festival unità dell'81 che veniva dopo la sconfitta della Piat allora questo gruppo particolare che io ne parlo era il gruppo della vigilanza quello che aveva l'incarico di fare una merida di cose e avevano sopportato con entusiasmo quello che era tutto quello che era come si chiama allora in attività sulla Fiat sull'occupazione della Fiat per cui davanti alla porta i compagni dei dirigenti insomma tutte queste cose vi voglio ricordare che in quel periodo lì che era il 1981 c'era il terrorismo c'erano gli estra parlamentari tanto per parlare a feste unità noi allora tutti credo che si ricordano quelli che hanno una certa età nelle feste come si dice dell'unità si faceva delle manifestazioni come si chiama di suono di quelli che suonavano ecco i nomi noti ecco lì c'erano che loro avevano inventato i gruppi estra parlamentari gli autoriduttori che volevano entrare a vedere lo spettacolo come noi fossimo il posto di San Pancrazio a visitare gratis allora io dico in breve parole vi abbiamo dato una piccola lezione e non sono più venuti a rompere l'anima alla festa dell'unità in questo caso perché noi con tutti i sacrifici che facevamo che facevano i compagni era inambissibile che ci fossero quelli che pretendevano di partecipare a questo spettacolo che loro lo gestiva la stampa è propaganda se non ero teniamo conto che il festival nazionale dell'81 che era stato fatto all'Italia 61 allora era una prova di forza nei nostri confronti di chi organizzava questo particolare lavoro avevamo lo avevamo tutti scintato con sette porte di entrata e uscita tutte sette porte che erano vigilate 24 ore su 24 io voglio ricordare un plauso alla SPI ai pensionati che loro siano assunti la responsabilità di gestire questa parte alla mattina tutte le mattine l'altra parte lo facevamo noi quello vuol dire avere la presenza di centinaia di compagni perché tutti pensano che insomma possono sapere che per gestire una cosa del genere ci va centinaia di compagni allora voglio solo ricordare poche cifre le sessioni in Torino mi sembra che fossero 67 se non sbaglio poi c'era le sessioni della provincia tutti avevano un impegno particolare chi in questo modo chi in un altro modo allora noi dovevamo fare questo tipo di lavoro e lo facevamo 24 ore su 24 perché giustamente dovevamo anche insomma essere presenti per appunto poi avevamo tutta l'altra parte di quelli che dovevano andare a prendere dove arrivarono i dirigenti accompagnarli tutta questa parte qua non è una parte indifferente che cosa volevo dire in breve parole che si doveva incominciare almeno un mese prima e finire un mese dopo ma il festival nazionale 81 siccome io ero presente e c'era l'organizzazione l'aveva in mano Qualiotti abbiamo incominciato tre se non ero tre mesi prima e abbiamo finito tre mesi dopo allora eravamo fortunati perché dopo la batosta della Fiat che avevano messo in casa integrazione o licenziati avevamo fatto la squadra centrale dei lavoratori della Fiat che si erano offerti volontari per gestire questo popò di cosa un altro particolare l'Italia 61 non è pianeggiante ma è tutto fatto a Dune e via dicendo per cui abbiamo costruito la parte che veniva dal festival nazionale che era una cosa le chiamavano le cupole il grande lavoro era quello di renderle in piano voglio dire fare il basamento come si vuol dire renderle in piano ecco allora vi voglio raccontare un'altra piccola cosa che è successa nel 1975 per la prima volta il Piemonte le come si chiama le organizzazioni partigiane le formazioni partigiane quelle che allora si chiamavano così avevano organizzato con le forze armate una festa che è stata fatta nel 1975 a livello piemontese il servizio d'ordine che allora si chiamava così perché voleva anche specificare questo tipo di lavoro era diviso in due parti uno era quelli che facevano un certo tipo di lavoro e altri che insomma in totale facevano il servizio d'ordine li contavo ieri perché c'è ancora un documento che parla di queste cose io ho contato i compagni che facevano parte di questa cosa erano 414 distribuiti nei vari modi per cui tutta la questione perché quei militari non è come dice la prendiamo così e va bene quei militari bisogna anche rispettare certe regole e noi le abbiamo superate tutte allora voglio dire insomma che alla fine questo lavoro è sempre stato un po' dimenticato voglio dire ma secondo me qui ci sono in tutto questo tipo di lavoro che ha continuato per decine d'anni perché quando c'era la festa di unità per i quali voglio ricordare ancora ci sono ancora dei compagni che fanno ancora presenza su questo tipo di lavoro allora io credo che ci vada un giusto merito a tutti questi compagni che silenziosamente hanno prestato questa loro opera e voglio dire e questo lo voglio dire a tre volte i volontari questi erano i volontari dei volontari non hanno mai percepito niente non hanno mai preteso niente per cui sono stati questi che hanno dato al partito perché loro ci credevano e alcuni ci credono come io ci credono ancora adesso che non c'è bisogno che ci siano queste cose però sarebbe anche giusto che fossero collocati nel giusto posto vi ringrazio finire in effetti anche nel libro c'è nell'intervista finale appunto che in definitiva ha dato più le feste al partito di quanto poi il partito ha dato alle feste si può anche aggiungere forse tutti quelli tutto il popolo dei volontari ha dato veramente di più alle feste di quanto abbia fatto effettivamente il partito ah Contro voleva dire una cosa noi abbiamo preteso lo dico così mi sento alla festa naturale di Torino abbiamo preteso che il fatto quando si fosse una delegazione di volontari non si fosse una delegazione di volontari e non si fosse una delegazione nello spirito delle olimpiadi Torino sui volontari siamo stati come dire abbiamo compreso tutto questo no? anche un po' nella storia di Torino fa parte anche questo nelle storie sia delle feste dell'unità ma che si sono trasferite in tante altre esperienze torinesi adesso appunto il futuro il futuro è dei giovani i giovani della FGC che diventeranno non è più FGC comunque come si chiama? i giovani democratici che prenderanno in mano le cose come vivono i giovani le feste questo tipo di festa e come come la vedono in futuro proprio perché come diceva l'autrice poi su questo daremo la parola per chiudere pensa che le feste sopravviveranno al momento insomma storico che stiamo vivendo innanzitutto grazie a tutti prendermi l'onore di dire come la penseranno i giovani sul futuro è difficile però inizio dicendo due cose su questo libro il primo è che lo trovo bello è bello mentre lo leggi perché ti sembra come è stato detto già prima è una storia è una vera storia che però è reale e la puoi seguire nei passi e l'altro da studente ancora universitario è bello sentirsi dire sono pochi professori che lo dicono che sarebbe bello raccontare la storia e la scienza politica passando attraverso il costume della società se fossero sempre di più professori a fare questo sarebbe decisamente meglio perché perché ti aiuta a capire davvero come sono accaduti i fatti perché il semplice raccontare gli episodi storici non è più sufficiente vedere la storia d'Italia di 70 anni raccontata attraverso un esempio qual è quello delle feste dell'unità è secondo me una cosa assolutamente interessante fatta nel modo giusto io in questo libro ho ritrovato un po' della mia esperienza personale perché poi uno nasce in una famiglia che faceva partecipare le feste dell'unità per cui ti rivedi da quando sei bambino una delle prime foto che io ho a casa è nella festa dell'87 a Bologna quattro mesi nel passeggino sotto festa nazionale dell'unità a Bologna ed è ripetuta poi a 88 89 per arrivare mia sorella eravamo in due ogni anno era un appuntamento fisso come era l'appuntamento fisso la festa del paese che era la festa dell'unità e qualcosa che ti rimane dentro quando cresci e sono tanti ragazzi come me che sono cresciuti in famiglie in cui era un momento quasi obbligatorio non c'era da discutere il passaggio che ci ha portato dove siamo oggi e secondo me è la domanda iniziale che si è fatta all'inizio del dibattito del DSPD io non trovo che sia stato quello il problema né trovo il problema del nome perché il nome in realtà solamente in alcuni casi si è usato festa democratica io sfido davvero in tante occasioni tutti continuano a chiamare la festa dell'unità tutti continuano il più bello l'ho trovato festa dell'unità del partito democratico per questo ognuno si inventa la sua ma rimane quella quella varia come auguri il problema reale a mio avviso avendone fatte un po' avendo provato anche in tante occasioni a rilanciare feste in posti dove non c'erano più io con un altro amico compagno in Val di Suse abbiamo fatto una festa di tre giorni dopo anni e anni che non veniva fatta ce l'avevamo fatta ma con degli sforzi disumani perché oggigiorno organizzare una festa il vero problema è che non è come raccontato nel libro vai nel bosco costruisci e il gioco è fatto il dramma di oggi è giochino come altri lo sanno benissimo avendolo vissuto in prima persona organizzare la festa nazionale nel centro di Torino voleva dire sconvolgere una città voleva dire come autorizzazioni permessi fideiuzioni non dovevamo sconvolgere però avere il permesso di arrivare a quello oggigiorno ma come farlo qua come farlo in tante altre occasioni oggigiorno la difficoltà sta lì che non è più un'impresa da cinque minuti ora devi davvero dedicarci forze anime nell'organizzarla prima che sono enormi sono gigantesche sono difficili la cosa che a me spaventa nei miei coetanei sempre di più è un concetto che ha detto Gianotti benissimo all'inizio e questa definizione antipolitica mi mancava e mi piace cioè la distanza che c'è tra chi la politica la fa per professione dal militante quello che manca nei giovani di oggi non mi metto perché io invece penso di averla è proprio la militanza la militanza è il vero problema che hanno i miei coetane in tante occasioni perché l'antipolitica ha creato un distacco talmente tanto lontano tra i ragazzi e il partito non vado in questo caso il partito democratico però si è proprio creato un distacco una lontananza che ha fatto saltare la parola militanza io sono un po' di anni prima con la sinistra giovanile adesso meno con i giovani democratici col partito in cui vedi arrivare i ragazzi allo stand ma lo fai gratis come se fosse una cosa fuori dall'umana concezione abbiamo fatto ore e ore gratis è assolutamente normale e invece tanti ragazzi che adesso anche che si iscrivono al partito che si iscrivono ai giovani democratici la difficoltà di capire questo passaggio per alcuni normale naturale che la militanza vuol dire che quell'estate non va in vacanza perché dal 16 si monta la festa poi la smonti il 16 settembre salti la sessione di esami e per un mese la tua vita è passarla alla festa o a luglio o agosto o settembre per altri quando gli racconti questi passaggi senti anche risposte come ma la festa non è politica e quando senti quello ti colpisce dentro perché la festa secondo me questa come tante altre soprattutto dei paesi è l'unico momento in cui si fa politica perché non è il dibattito che secondo me giustamente in passato veniva detto il saluto perché poi mentre ci si divertiva e in quel contesto si faceva politica tutt'oggi avere l'occasione di fare feste nei comuni nei paesi sono momenti in cui anche se si continua nelle piccole feste a fare uno al massimo due dibattiti politici su dieci giorni di festa mai di più perché effettivamente adesso ne trovi 50-60 persone qua e 400 a ballare dall'altra parte per cui è normale quello però la festa in sé è una vicinanza al partito è un modo per e questo lo si trova benissimo nel libro secondo me e viene spiegato in modo egregio le difficoltà che si sono incontrate in tanti anni di festa anche nel rapporto tra giovani e partito sono le stesse che viviamo anche adesso quest'estate ho partecipato a una festa mi sono occupato della birreria ti diverti nel vedere quando discuti con alcuni compagni con qualche anno più di te quando cerchi di convincerli magari di organizzare un concerto di gruppi giovani al posto del ballo liscio poi alla fine però ci rifletti con te stesso che ha ragione lui che è meglio fare il ballo liscio perché col ballo liscio fai 600 persone che vanno e ballano col concerto magari ne fai 100-150 ma spendendo una cifra enorme per cui negli anni ci siamo scontrati ve lo assicuro quante discussioni in feste di anni passati per convincere ad ottenere il dibattito in più o il concerto farsi dare i soldi per poter secondo me quello sarà il futuro la mia preoccupazione personale sulle feste dell'unità è che si perda questa tradizione se tanti compagni negli anni per forza di cose non potranno più dare quello che davano una volta e se dietro non si cerca di ricostruire qualche cosa in molti casi è stato fatto in altri secondo me c'è la necessità di provare a rilanciare a dare quel senso di come dicevo all'inizio di militanza di voglia di far parte di qualche cosa perché negli anni in cui abbiamo organizzato un sacco di feste al nostro stand della birreria quando mi occupavo di gestirlo venivano un sacco di ragazzi che non erano iscritti che non facevano parte della sinistra giovanile però c'era proprio un sentimento in cui in quelle due settimane ti avvicinavi conoscevi parlavi di politica magari facevi la tua prima tessera era l'unico passaggio certo che potevi dare a molti ragazzi per avvicinarli alla politica per fargli capire che è un mondo in cui non è quello che traspare all'esterno ma c'è anche qualcos'altro c'è sia impegno sia divertimento come è una cosa che detto prima viene spiegata bene nel libro a mio avviso la speranza deve essere per il futuro quella di riuscire a uscire da questo periodo della politica italiana in cui siamo ci siamo incastrati in cui ciò che la fa padrona adesso è l'antipolitica la lontananza dai partiti in sé quello che un po' mi tranquillizza è vedere che cose che fino a qualche anno fa si facevano all'interno del partito ora si fa molto nell'associazionismo dove invece è lì un pochino più lo si vede questo sentimento dobbiamo essere noi in grado di riportare da noi e far risentire di nuovo i giovani di oggi con i stessi sentimenti di quelli che vivevano nel libro come viene spiegato bene nel libro grazie grazie io le conclusioni le lascerei all'autrice ma facendolo una domanda appunto come sarà il futuro di queste feste sopravviverà la festa democratica o cosa diventerà fatto qui a Torino c'era stato un esperimento mi ricordo della festa dell'ulivo a cui partecipavano tutti i vari che era stato anche interessante perché appunto si era perso un pochino il timbro così il marchio comunista di provenienza del PC ma c'era questa idea dell'ulivo che stava prendendo un po' forma ed era stata una bella festa se ben ricordo ecco come mantenere come ci si chiede anche nel libro la tradizione il bello della tradizione alcune cose che fanno veramente unità ma non pensando al giornale ma che fanno appunto l'unione il rapporto perché poi la cosa più bella io credo per tutti quelli che hanno partecipato che partecipano io non sono una militante ma negli ultimi 25-30 anni un passaggio alla festa lo faccio sempre ed è un momento in cui e mi capita anche in vacanza spesso se c'è una festa di andarci a cena perché sai che lì ti siedi e ci sono delle persone con cui in qualche modo hai qualcosa in comune insomma e qui viene spesso poi ti trovi a chiacchierare magari ho il tuo vicino di tavolo prima parli di com'è appunto la trofia se sei in Toscana o in Liguria o il Coniglio se sei in Toscana ma poi ti trovi a parlare di come va il mondo e quindi è questo fare politica confrontarsi ecco questo aspetto che io credo sia molto bello come riuscirà a sopravvivere e a mantenersi o comunque a vivere contemporaneamente a quello che è l'effetto salotto tv quello che è l'effetto appunto la forza mediatica che hanno soprattutto nelle feste nazionali il viverle poi in relazione a quello che è il dibattito appunto del rimbalzo politico sui giornali ecco se si perderà o si riuscirà a trovare una formula io ovviamente non ho ricette ho scritto questo libro al di là appunto delle ragioni che ho detto in apertura anche perché ritengo che la memoria delle feste dell'unità debba essere uno stimolo per il presente io faccio una testa così ai miei studenti sempre dicendo che prima di farsi un giudizio bisogna conoscere e solo dalla conoscenza possono partire poi tutte le esperienze di qualunque tipo esse siano politiche o ed esistenziali quindi fare un libro sulle feste dell'unità doveva mettere un punto fermo di conoscenza e tutti quelli che in qualche modo organizzano le feste devono sapere che cosa c'è stato prima per anche tentare di prefigurare un futuro e il mio parere assolutamente personale è che debba essere conservato deve essere conservata la linfa vitale delle feste quindi questa forma di partecipazione forte che abbiamo sentito anche stasera è un modo di intendere la politica e la vita e quindi questo deve essere un modello che deve resistere è chiaro che non si può vivere nel passato quindi comunque le feste devono dialogare con l'attualità la modernità con i tempi che cambiano non trovo veramente nulla di sconveniente che ci possa essere il liscio e uno spazio di musica diversa dove i giovani si ritrovano l'uno non deve escludere l'altro solo dall'unione tra il vecchio e il nuovo può dare appunto uno spunto per il futuro molto più problematico sarà il modello che il partito vorrà dare a una festa quindi è questo il punto interrogativo più a livello dirigenziale del partito che di chi vive partecipa alla festa io sono tra coloro che ritengono che il partito non debba essere una parolaccia ma qualcosa che serve alla formazione io ho studiato per tanti anni le scuole di partito provando un senso di così di ammirazione anche di coloro che partecipavano da istruzione quasi nulla alle scuole di partito perché non era tanto imparare delle nozioni ma era imparare a vivere nel mondo e quindi da questo punto di vista questi partiti sono essenziali non so se una festa possa essere un trampolino sicuramente una parte importante e purtroppo devo dire che nella festa nazionale quella di Reggio Emilia che ho frequentato questo senso si avverte pochissimo senza nulla togliere i media sappiamo che viviamo nella società dei media ma i dibattiti politici sono fatti ad uso e consumo dei media non di coloro che partecipano sia da parte dei diciamo dei relatori che vanno lì a fare il titolo dei giornali non lo demonizzo lo registro punto e basta sia da parte appunto degli organizzatori che mirano a finire sui giornali sui media per il dibattito la polemica del giorno ecco se si insegue solo questa parte credo che le feste abbiano un futuro molto poco lontano se invece si cerca di coniugare questo che è forse un'esigenza appunto della società dei media con una volontà di vivere la politica attraverso tutti i segmenti possibili credo che le feste possano avere ancora lunga vita bene niente noi vi ringraziamo qui non c'è il tortello ma ci sono altre cose immagino che molti vorranno frequentare a questo punto apprezzare il lavoro dei volontari ancora di più e di chi sta preparando delle cose da mangiare o comunque negli stand il prossimo appuntamento mi dicono è alle 21 con Rosi Bindi che sarà intervistata da Massimo Gramellini proprio per rispondere grazie 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 grazie